L'informazione di valore sul canale 18, questa è Esperia TV. Da domani ci vuole il Green Pass base anche per tagliare i capelli o andare dall'estetista dall'1 febbraio, varrà anche per i pubblici uffici, i presidenti di Sicilia e Calabria sfidano il governo per attraversare lo stretto, sarà sufficiente mascherina e tampone rapido. 43% di posti letto occupati da pazienti Covid in Calabria, ma è in calo il numero dei posti in terapia intensiva. Trafficavano droga nel centro storico di Crotone, la polizia ha sgominato la banda, 11 arrestati, 2 all'obbligo di dimora. Pittura, scultura e grafica 3D nelle opere di Emiliano Ranieri sino al 30 gennaio, una mostra nel Museo dei Giardini di Pitagora a Crotone. Buonasera, avete sentito dai nostri titoli, dunque da domani se volete andare a fare i capelli dal barbiere dovete avere il Green Pass, quello base, ma comunque dovete averlo e così anche se volete andare all'estetista. Poi fra l'altro dal 1 febbraio tutto questo varrà anche per entrare nei pubblici uffici. Insomma ci sono alcuni locali, alcuni uffici, alcuni negozi per i quali non c'è bisogno, per altri invece sì. Allora cerchiamo di raccontare tutto in sintesi con questo servizio. Scatta giovedì 20 gennaio l'obbligo di esibire il Green Pass base che si ottiene con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore se si va dal parrucchiere, dal barbiere o nei centri estetici. Il 1 febbraio scatterà invece lo stesso obbligo per negozi e uffici. Il decreto entrato in vigore il 7 gennaio ha varato nuove regole per i negozi. Tutti i lavoratori sono obbligati ad esibire il Green Pass base. Con il nuovo provvedimento la stessa disposizione viene allargata ai clienti. All'ingresso di parrucchieri, barbieri, centri estetici bisognerà presentare il Green Pass base. Il 1 febbraio il Green Pass base servirà invece per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari. Saranno esentati i cittadini che devono presentare una denuncia oppure chi deve partecipare a un processo in tribunale. Il 1 febbraio scatta l'obbligo anche per i negozi. Nelle prossime ore il Presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà il DPCM che contiene l'elenco degli esercizi commerciali esentati. Non servirà la certificazione verde per acquistare generi alimentari sia nei negozi al dettaglio sia nei supermercati. Sono nell'elenco i negozi che vendono sul gelati, le pescherie, le bevande, i rappresentanti di ittica. Libero accesso anche nei mercati rionali. Per comprare medicinali e prodotti per la cura per il corpo non servirà il Green Pass che sarà invece necessario per i negozi di cosmetica. Niente Green Pass anche per parafarmacie e negozi che vendono i prodotti igienico-sanitari compresi deodoranti, bagnoschiuma, shampoo. Libero ingresso anche negli ottici. Niente certificato per le edico dall'aperto mentre servirà per i negozi che vendono giornali o le librerie. Niente Green Pass anche nei negozi che vendono generi alimentari e per la cura degli animali. Non Green Pass per acquistare carburante ma anche i carburanti per la casa compresa legna, liquidi e l'alimentazione per le stufe. E niente Super Pass per attraversare lo stretto di Messina. Basterà un tampone negativo. Sicilia e Calabria dunque sfidano il governo con un'ordinanza che viola il decreto in vigore dalla vigilia di Natale in base al quale, come sapete, può salire sui mezzi di trasporto, compresi quindi navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale, solo chi è vaccinato oppure è guarito dal Covid. Una forzatura che arriva con le regioni sempre più in pressing anche per modificare le regole in generale, le regole anti-Covid a partire dai parametri di conteggio dei ricoveri in ospedale per evitare il passaggio nella zona con più restrizioni. Le ordinanze firmate da Nello Musumeci e Roberto Chiuto stabiliscono che per passare dalla Sicilia alla Calabria e naturalmente viceversa, basterà avere il Green Pass base e non quello rafforzato, anche se bisognerà restare nella propria auto o all'aperto e indossare la mascherina FFP2. Nelle prossime ore si capirà se il governo impugnerà i due provvedimenti, come ha già fatto con quello della Campania che, come sapete, posticipava la riapertura delle scuole. La percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area medica è salito al 30% in Italia, ha cresciuto in 8 regioni nelle ultime 24 ore, tra esse la Calabria che sale al 43%, poi Friuli, Lazio, Marche, provincia di Bolzano, provincia di Trento, Puglia, Val d'Aosta che torna al 57%, stabile invece la percentuale di terapie intensive occupate, 18% in Italia, fra l'altro in 24 ore è calata in 6 regioni. In Calabria è scesa al 17%, sono questi i dati di Agenas dello scorso 18 gennaio. E a proposito di nuovi colori, insomma le regioni vorrebbero che si cambiassero un po' più che i colori in realtà, i criteri per applicare appunto gli stessi colori. Il servizio. Procedere a una revisione del sistema delle norme anti-Covid in ambiti diversi come quarantene, scuola e trasporti, puntando anche al superamento delle fasce dei colori, presupposto delle restrizioni in base all'andamento dei contagi e delle ospedalizzazioni. È la prospettiva a cui lavorano le regioni che nella prossima riunione discuteranno di una serie di eventuali proposte da avanzare al governo. L'obiettivo è quello di permettere il più ampio margine di mobilità e di esercizio delle attività economiche. Dopo il no del fronte scientifico, alla richiesta di modifica del conteggio dei recovery Covid, i governatori lavorano una serie di ipotesi in vista della prossima conferenza delle regioni. Il sistema dei colori, di fatto, è superato dalla realtà. Il rischio è andare verso restrizioni relative alla situazione di qualche mese fa, anziché attuale. Adesso serve una nuova fase, bisogna sempre più correre a vaccinare le persone, anche perché a tamponare milioni di persone si rischia di ingolfare il lavoro delle asle. Delle istanze si fa a portavoce il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Una sponda arriva dall'esecutivo con il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, per il quale siamo di fronte a uno scenario diverso della pandemia e dunque è giusto aprire un dialogo con le regioni riguardo al superamento del sistema colori. Il cambiamento radicale riguarderebbe la zona rossa, dove in tal caso gli spostamenti sarebbero possibili ovunque e tutte le attività economiche resterebbero regolarmente aperte per chi ha il superpass. Su questi aspetti, dicono le regioni, il governo chiede al comitato tecnico-scientifico di esprimere un suo parere. Finalmente si torna ad assumere all'ospedale annunziata di Cosenza. Avremo presto 201 nuovi operatori sanitari pronti ad infoltire un organico per troppi anni carente e insufficiente per rispondere alle crescenti esigenze della collettività. Lo afferma in una nota il presidente della regione Roberto Chiuto, che annuncia la pubblicazione di un nuovo DCA commissariale, con cui si dà il via libera a queste 201 nuove assunzioni a tempo indeterminato tra infermieri, amministrativi e operatori sociosanitari per, lo vedete, l'ospedale di Cosenza. Attraverso questo decreto saranno innestate nuove professionalità in modo da garantire meglio il diritto alla salute. Il DCA adottato per Cosenza verrà replicato anche per altri presidi ospedalieri in modo tale da procedere con nuove assunzioni nel settore sanitario in quei territori e per quelle comunità da troppi anni oramai in sofferenza. E con la salute non abbiamo ancora finito perché c'è anche un giro di ricette false. Avrebbero prodotto ricette false utilizzando ricettari rubati e nominativi di sanitari inesistenti o esistenti maestranei all'attività illecita per ottenere la disponibilità di un ingente quantitativo di farmaci da rivendere in una farmacia il cui titolare era coinvolto nel reggiro. La guardia di finanza del comando provinciale di Catanzaro ha eseguito un sequestro preventivo di somme pari a 82 mila euro emesso dal GIP del capoluogo su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di sei persone indagate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa in danno del servizio sanitario nazionale e di falso in certificati amministrativi. Le indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo hanno preso avvio dalla sparizione di un numero rilevante di ricettari rossi all'interno dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio. Da qui i finanzieri hanno ipotizzato la successiva utilizzazione per la redazione di ricette intestate a soggetti invalidi di guerra che avevano diritto di usufruire dell'esenzione totale dal pagamento del ticket regionale. Attraverso l'uso dei ricettari sottratti e utilizzati abusivamente il gruppo infatti avrebbe acquisito una considerevole quantità di farmaci poi commercializzati nell'esercizio di uno di loro arrecando un duplice danno erariale legato tanto al mancato pagamento quanto al mancato versamento di somme dovute per ticket regionali. E visto che siamo in cronaca ci restiamo un'operazione antidroga della polizia di Crotone sono state arrestate 11 persone, per altre due l'ordinanza prevede l'obbligo di dimora, i particolari nel servizio. Avevano strutturato una rete attiva soprattutto nel centro storico di Crotone e organizzata in forma piramidale all'interno della quale i componenti avevano ruoli e competenze specifiche per procurarsi e smerciare al dettaglio ingenti quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana. Sono 13 le persone, 10 finite in carcere, una ai domiciliari e due agli obblighi di dimora, destinatari dell'ordinanza emessa dal GIP di Catanzaro su richiesta della DDA eseguita dalla squadra mobile di Crotone. I reati contestati a vario titolo sono l'associazione finalizzata all'acquisto, la detenzione, il trasporto, la cessione e la vendita di sostanze stupefacenti e in alcuni casi di spaccio e detenzione. Gli investigatori, attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e video, hanno disarticolato così un gruppo che operava in città, con particolare riferimento al centro storico. All'interno di questa realtà era stata predisposta la rete di spaccio, i cui profitti confluivano in una cassa comune e successivamente venivano distribuiti tra i soggetti apicali, mentre ad altre figure coinvolte veniva assicurato un compenso. Durante l'attività investigativa sono state effettuate perquisizioni e sequestri di sostanze stupefacenti anche nei confronti degli assuntori. Il gruppo era dedito alla coltivazione di marijuana in terreni alla periferia della città, dove sono stati attuati anche dei sequestri di piantagioni. All'operazione hanno partecipato un centinaio di uomini e donne della Polizia di Stato, appartenenti alla squadra mobile di Crotone, in collaborazione con il reparto prevenzione e crimine di Cosenza, Vibo Valencia e Siderno e alle unità cinofile di Vibo Valencia. Ieri abbiamo parlato del caro Bollette, che sicuramente ci sarà, arriverà già dalla prossima Bolletta, quella quindi di gennaio-febbraio, che dovremo pagare entro marzo. Abbiamo parlato col presidente Confindustria Cosenza, Fortunato Amarelli. Oggi il nostro Antonio Capri è andato a chiedere anche a chi vive ovviamente, come dire, la quotidianità con la propria attività, piccola, media, attività imprenditoriale. Vediamo che cosa gli hanno raccontato. Il caro Bollette manda in crisi le attività commerciali, in particolare bar e attività di ristorazione, che tra frigoriferi, forni e impastatrici vedono girare vorticosamente il contatore dell'energia elettrica e con l'aumento delle tariffe si vedono recapitare fatture da migliaia di euro, pesanti, mediamente il doppio rispetto all'anno precedente. Stiamo subendo negli ultimi giorni, ma ormai più che negli ultimi giorni, negli ultimi mesi, una serie di aumenti che rendono le nostre attività non sostenibili economicamente. Mi riferisco alla materia prima che trasversalmente ha subito un aumento del 15-20%, ma mi riferisco soprattutto al costo dell'energia della corrente perché ha avuto un aumento di circa due volte e mezzo rispetto alle precedenti annualità. Questo significa che di fatto appresentisce il bilancio di ogni attività di almeno un valore che si aggira a 2.000-3.000 euro in più di costi rispetto all'anno precedente, base mensile. Questo significa chiaramente il costo di un'unità lavorativa. Gli aumenti si aggiungono a quelli delle materie prime e fanno schizzare alle stelle i costi di gestione che finiscono per ripercuotersi non solo sui prezzi al consumatore finale, che sono sempre più salati, ma anche sull'altra voce rilevante dei bilanci aziendali, quella del personale. Con questi attuali incassi che hanno avuto comunque un calo per effetto della mancata circolazione a causa della pandemia, a parità di costi saremmo costretti a ridurre il personale e riorganizzarci inevitabilmente. Abbiamo avuto rincari del doppio, praticamente novembre 2020 abbiamo bollette che eseggiranno intorno alle 500 euro mensili, adesso novembre 2021 abbiamo bollette che sono intorno alle 6 mila euro. L'aumento dei prezzi sicuramente è inevitabile in questo momento, la riduzione di personale è da prendere in considerazione anche perché il lavoro è quello che è, non è più quello di prima. In gioco forza dobbiamo anche aumentare qualcosina per quanto riguarda i nostri prodotti e anche sull'assunzione di personale. Gli esercenti chiedono interventi immediati e sostegni concreti per non mettere a rischio le attività con ciò che ne consegue per l'economia del territorio e l'occupazione. Un appello a tutti i politici, è un appello alle istituzioni, ma vogliamo mettere veramente mano sul costo del personale in generale, ora magari parlo della nostra attività ma in generale, perché il costo del personale è veramente allucinante. Dal primo gennaio scorso i 104 LSU e le più di San Giovanni in Fiore lavorano 4 ore a settimana in più. Lo ha reso noto il sindaco, Rosario a succurro, siamo stati di parola, ha detto, prima stabilizzati, adesso con 4 ore in più nel contratto. Per 97 dipendenti le ore di lavoro settimanali sono passate da 18 a 22, per altri 7 da 31 a 35 a riprova dello sforzo che l'amministrazione ha compiuto, riconoscendo a questi 104 lavoratori comunali professionalità ed importanza. Dunque continuiamo ad alimentare in tutti gli uffici municipali un clima di serenità e uno spirito di gruppo tangibili, essenziali per garantire servizi adeguati a risposte concrete ai cittadini di San Giovanni in Fiore. Ha concluso la sindaca e adesso invece facciamo un bilancio dei vigili urbani di Reggio Calabria. Lo facciamo con questo servizio. Il comandante della Polizia Locale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, e l'assessore comunale Giugi Palmenta hanno presentato il bilancio operativo svolto nel 2021 dal corpo della Polizia Municipale. Per il comandante Zucco, nonostante una pianta organica fortemente ridotta, il 2021 ha fatto registrare un bilancio estremamente positivo in ogni settore che vede impegnati gli agenti della Polizia Locale. Tra i dati forniti nel corso della conferenza stampa, quello relativo agli incidenti stradali passati dai 627 del 2020 ad oltre 830. Per quel che concerne l'ambito della vigilanza stradale, sono aumentate le sanzioni al codice della strada, complessivamente oltre 73 mila per un introito superiore ai 3 milioni di euro. Più disordinati i parcheggi che la guida, che oserei dire. Rispetto alla guida diciamo che siamo su standard più o meno delle altre città metropolitane italiane, anzi con qualche punto in più rispetto all'attenzione alla cura. Anche il numero degli incidenti che si attesta sugli 800, quindi circa nemmeno 3 al giorno, tutto sommato da il senso di un'utenza della strada, tutto sommato attenta, non particolarmente spregiudicata. Ovvio che la questione parcheggi è il nostro cruccio perché anche per la conformazione della città che comunque non è particolarmente felice da questo punto di vista, ma per questioni ovviamente di strumento urbanistico, di sviluppo urbanistico. Negli ultimi due anni, ha detto dal canto suo l'assessore Palmenta, il Covid ha segnato il nostro modo di relazionarci. L'azione svolta dalla Polizia Locale è stata fondamentale, autentica, professionale ed ampiamente riconosciuta anche nel resto del Paese. Anche il ruolo che hanno ricoperto la Polizia Locale è stato importante, tanto che nel corso dell'Assemblea Nazionale ANCI 2021 a Parma, la nostra città è stata insegnata proprio del premio sicurezza per il lavoro svolto durante la pandemia. Restiamoci a Reggio Calabria perché durante un controllo nell'area della ex caserma Cantafio è stata rinvenuta una munizione bellica inesplosa. Sono stati attivati poi dalla Prefettura di Reggio Calabria. Come vedete gli specialisti dell'esercito giunti da Castrovillari hanno identificato una granata esplosiva antiaerea tedesca. Gli artificieri della caserma Manes hanno messo in sicurezza, rimosso l'ordigno, trasportato per il brillamento finale nell'alveo del torrente Scaccioti. La curiosità è che il tritolo che era contenuto in questa granata, anche se molto datato, ha reagito regolarmente, detonando per fortuna ovviamente in sicurezza. La pagina dell'arte e della cultura sino al 30 gennaio a Crotone, ai Giardini di Pitagora, espone le sue opere l'artista Emiliano Ranieri che ha incrociato per noi Massimo Carlozzo. È stata inaugurata a Parco Pitagora a Crotone la mostra Zapping di Emiliano Ranieri che resterà aperta al pubblico sino al 30 gennaio. Le opere in mostra sono nate ripercorrendo i ricordi e le emozioni legate all'infanzia dell'autore. L'artista, che ha studiato a Catanzaro, dove ha frequentato prima il liceo artistico e poi l'Accademia di Belle Arti, lavora come dissegnatore di gioielli presso l'azienda di Gerardo Sacco. L'amore e la passione per la pittura e la scultura sono sempre state centrali nella sua vita. Di giorno designer, di sera pittore e scultore. Per dar forma alle opere ha utilizzato varie tecniche. Tra le tante c'è la micro scultura su matita che ha dato rilievo a personaggi come Beethoven, Milone, Batman, per finire alla Madonna di Capocolonna. Appassionato di supereroi, Emiliano Ranieri lavora molto attraverso il 3D realizzando sculture digitali. Mio padre, sin da piccolo, si è accorto delle mie attitudini di riprodurre le cose che vedevo. Quindi, diciamo che sono così naturale nella mia vita, è così naturale disegnare, dipingele, che fa parte di me. La pittura, ma anche la scultura e anche la grafica 3D, insomma, un po' di tutto. Sì, a me piace molto sperimentare quello che succede nel mondo, quindi la scultura digitale, anche la tradizionale, è chiaro, quella fa parte di me, scultura digitale, dipingo. A me piace molto sperimentare. Parliamo di una realizzazione molto particolare, molto lavorata, delle matite d'arte possiamo definirle o no? Sì, sono delle micro sculture, sempre per la mia ricerca che ho nelle tecniche, volevo misurarmi appunto con quest'altra tecnica di micro scultura. Ho avuto, diciamo, discreti risultati scolpendo ben quattro matite. Ne ho qualche altra a casa, ma ho preferito portare queste. La difficoltà è appunto quella di riuscire a scolpire la mina, la punta di una matita, con degli attrezzi, delle lenti addizionali. Passione, sì, passione, dedizione. Complimenti, auguri, ovviamente. 10 e l'8 il gioco, insomma, arrivano un po' di soldini anche in Calabria, Vibo Valencia, un 9 ha permesso una vincita di 50 mila euro. L'anno è cominciato da, ovviamente, insomma, da 19 giorni, giusto? Quindi poco meno di un mese, ma le vincite tra l'8 e 10 e l'8 ammontano già a 245 milioni di euro, ovviamente, non solo in Calabria, ma in tutta Italia. E adesso Trebi Meteo. Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che vedrò un parziale cambiamento del tempo. sull'Italia, una perturbazione attraversa il nostro paese, soprattutto il centro-sud, e al suo seguito arriverà anche aria un po' più freddina, ce ne accorgeremo specialmente da venerdì. Controlliamo intanto la nuvolosità prevista per giovedì, con appunto il ritorno di nuvole sul nostro paese. Saranno un po' più estese e insistenti nell'Italia centrale, mentre il nord, come vedete, sarà in parte saltato da questa perturbazione e poi vi segnalo a fine giornata il ritorno di un po' di variabilità anche nelle regioni meridionali. Come precipitazioni non sono attese piogge particolarmente intense e diffuse, diciamo che l'Italia centrale sarà la zona in cui queste piogge saranno più probabili. Coinvolta però anche la Campania e a fine giornata arriva qualche goccia di pioggia anche nel resto del sud. Quindi in definitiva ci attendo un giovedì, che risulterà molto variabile nel centro Italia, con nuvole, precipitazioni, anche qualche fiocco di neve sull'Apennino, ma per il momento a quote abbastanza alte. Coinvolta anche l'Emilia Romagna, il Basso Veneto, l'estremo Levante Ligure, nel resto del nord invece non mancheranno ampie zone di sereno e poi dicevamo col passare del tempo, tempo in peggioramento anche al sud. Per tutti gli dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app di Trebi Meteo. Sono le 14.24, finiamo così. Adesso tocca a Smart Sport con Luigi Saporito e i suoi ospiti. Noi ci rivediamo stasera alle 20.30.